Ciao a tutte e benvenute sul canale FGM04. Per chi non ci conoscesse, io sono Naike e lavoro ormai da diversi anni in FGM04 e sono qui per spiegarti che cos'è FGM04 e la nostra filosofia. FGM04 è un'azienda totalmente made in Italy di cosmetica professionale. Da oltre 20 anni ci occupiamo di bellezza e soprattutto, visto dal punto di vista del benessere, della bellezza esterna ed interna, quindi del sentirsi bene dentro e fuori. Ideiamo, sviluppiamo e produciamo prodotti innovativi, utilizzando principi attivi migliori sul mercato che solitamente per gli alti costi vengono utilizzati soltanto nel campo estetico professionale, ma noi li rendiamo accessibili a tutti. Tutti i trattamenti più ricercati da fare direttamente a casa, quindi bendaggi, oli, fanghi, gel e addirittura indumenti. Sì, hai capito bene, perché noi siamo la prima azienda italiana ad utilizzare filati clinicamente testati che migliorano il nostro corpo, ma non voglio svelarvi tutto. Vi consiglio quindi di visitare il nostro sito e soprattutto la nostra pagina Instagram ed inoltre non dimenticatevi di iscrivervi alla nostra newsletter per tantissime novità e sconti. Io vi mando un bacio. Io vi mando un concetto.